buongiorno a tutti io sono Margherita Angelini insieme a Claudia Villani ma anche i partecipanti di questo panel eh che si intitola calendario civile educazione alla cittadinanza e formazione storica nel ventunesimo secolo esperienze ricerca in corso abbiamo il piacere di ehm darvi il benvenuto a questo panel e abbiamo il piacere anche di dare il benvenuto al nostro discussant il professor eh che ringraziamo davvero tanto di aver accettato di fare da discussant. No no grazie a voi sono molto contento di essere con voi. Grazie. Allora io cercherò di essere brevissima eh ringrazio il comitato eh scientifico della Cisco eh ovviamente chi ci ospita e proprio nello spirito di essere breve ho concluso i miei saluti eh ci atterremo ai dieci minuti eh cronometrati speriamo e lascio la parola alla mia collega Claudia Villani arrivederci. Grazie Margherita ehm allora entriamo subito nel vivo sarò brevissima in questa introduzione perché eh sono cinque interventi eh che abbiamo contingentato eh abbiamo pensato eh di unire questi temi siamo molto contenti di poterli discutere in questa sede di poterli discutere con il discussant perché non esiste un'idea astratta di cittadino così come il rapporto con il passato nella sfera individuale privata e pubblica cambia nel tempo. Sono temi che riguardano la cultura storica di una società e la coscienza storica eh individuale. Diciamo che sono tanti gli studi anche in questi cantieri di storia ci sono stati due panel ieri in particolare che riguardano i processi di memorializzazione nella sfera pubblica contemporanea e noi abbiamo deciso di affrontare questo tema eh in relazione al principale luogo della storia pubblica tra ottocento e ventesimo secolo cioè la scuola. Eh anche in questo caso subisce eh la concorrenza eh degli usi pubblici della storia amplificata dai media ma vista da questo punto di vista eh quindi il tema della formazione storica ha reso evidente intanto il nesso con l'educazione e la cittadinanza e con tutte le politiche relative. Eh ci preoccupa e l'ha reso oltremodo evidente lo spostamento del nesso del legame stretto che c'era dalle origini dall'ottocento tra storia ed educazione alla cittadinanza verso altri approcci sembra essere sostituito dalla memoria e da altro e ehm siamo eh poi convinti che queste dimensioni vadano declinate eh intrecciando dimensione nazionale e l'importanza crescente della dimensione internazionale. Mi limito a pochi cenni schematici proprio per non togliere eh tempo mi scuserete. Quindi ci siamo chiesti come viene declinata l'educazione e la cittadinanza nei paesi europei nel dopoguerra sino agli anni novanta in particolare mettendo in evidenza come cambia il rapporto tra dimensione nazionale e influenze internazionali, la relazione reciproca tra guerra fredda e il processo di integrazione europea eh e il tema del pepe eh dell'Angelini fino alla costruzione delle virtù del cittadino in quanto individuo che è una delle delle conclusioni del suo pepe. Poi come storicizzare il principale mh approccio attuale alla politica della memoria, quello del cosiddetto paradigma vittimario che si affianca a particolari politiche educative dell'insegnamento della storia guardando ad alcuni luoghi, ad alcuni luoghi classici in cui a livello internazionale questi temi vengono affrontati eh e questo è il tema del secondo eh pepe ehm eh intanto eh abbiamo eh deciso di approfondire abbiamo chiesto al collega Colla di approfondire il caso svedese perché mostra proprio questa relazione peculiare tra interessi nazionali su queste questioni e una politica della memoria, politiche educative che dialogano con la dimensione europea da un certo momento in cui anche con eh ambizioni egemoni sino alla costituzione di una mh peculiare agenzia di Stato levando in storia e poi eh sarebbe interessante sentire su questo proprio le considerazioni di Sèche Mare a noi è sembrata una sorta di agenzia di public history gestita dal dallo Stato. Infine eh due interventi preziosissimi quelli del collega Ambrosi e eh di Andrea amici che che ci fanno vedere cosa produce un certo nesso tra educazione e la cittadinanza storia e politiche della memoria dentro la scuola. Quindi hanno esaminato ehm i prodotti eh che nelle classi sono stati elaborati in relazione alla giornata della memoria delle vittime del terrorismo, la giornata delle vittime eh per le stragi e gli omicidi di mafia. eh sia concorsi targati miur quindi dal ministero sia nel caso di Miciche anche concorsi promossi da associazioni Libera, la Fondazione Falcone e Borsellino e eh alla fine ci mettono in guardia e ci siamo ritrovati su eh la i rischi di un dello spostamento dell'educazione alla cittadinanza eh verso altri nessi non con l'educazione storica con la comprensione storica. Detto questo io do subito la parola alla collega Angelini. Buongiorno di nuovo a tutti e a tutte chiederei ai colleghi di eh tenere il tempo e di ammettere anche i partecipanti che arrivano perché sono amministratori. Mi sentite giusto? Sì. No ad ammettere ad ammettere ci pensiamo noi. Ah perfetto va bene. Ok perché lo stavo facendo anch'io. Allora eh la mia ricerca e questo è il titolo della ricerca l'educazione alla cittadinanza via nazionale e prospettive europee è una ricerca in corso quindi io qui presenterò alcuni primi risultati. Eh la ricerca si è concentrata sullo sviluppo dei contenuti e dei processi educativi all'educazione eh alla cittadinanza nel contesto europeo focalizzandosi intorno a tre snodi principali. Il periodo tra il quarantacinque e il sessanta mh quando presero avvio le prime riforme educative in alcuni paesi europei e non solo. Eh gli anni settanta e ottanta quando furono promosse le prime indagini internazionali sull'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza e il decennio successivo al millenovecentonovantatré all'interno del contesto dell'integrazione europee. Le fonti utilizzate sono derivate da archivi istituzionali come gli archivi storici della comunità europea da nonché da fonti secondare degli attori che presero parte alla definizione del campo del sapere per utilizzare la terminologia di Bordieu e e la ricerca ha infine analizzato mh indagini internazionali e transnazionali legate al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea, alla rete euridice e alla International Association for the Evaluation of Education Achievement, da ora in poi I e A per semplificare. Ho condotto quindi un'analisi su più livelli comprendendo i singoli agenti che agirano attraverso il loro capitale economico, culturale e sociale, quest'ultimo definito sempre in termini bordesiani come l'insieme delle relazioni influenti di cui un agente dispone. Le trasmissioni culturali e le contaminazioni furono altresì fondamentali in questo processo. Ecco alcuni esempi di eh dati che ho analizzato su cui torneremo. Tra la fine degli anni quaranta e per tutti gli anni eh cinquanta il problema di come si potessero educare gli studenti ad una cittadinanza democratica tra virgolette fu comune a molti eh paesi dell'Europa occidentale e non solo in realtà. Eh ciò avvenne anche grazie all'emergere di nozioni inedite che si andavano definendo tramite nuovi soggetti tra cui l'ONU che verrà eh analizzato nel paper di Boschetti e Villani. Una prima domanda che mi sono posta è se fosse necessario agganciare la mia ricostruzione alla definizione dei concetti chiave di cittadinanza e di democrazia sia a livello legislativo sia a a livello di prassi culturali e sociali. La ricerca eh ha evidenziato come la discussione intorno a questi due nuclei concettuali non fu centrale all'inizio del dibattito il quale legò la disciplina in questi due decenni principalmente all'insegnamento della storia contemporanea anche in quei contesti come la Bundesrepublik in cui fu introdotta una nuova disciplina scolastica la politische Bildung. Questo fu possibile anche grazie agli alleati che promossero la cito da loro rieducazione eh della popolazione attraverso riforme che incontrarono diverse resistenze sia eh nei due casi di studi che ho studiato in Italia e in Germania. Come ho dimostrato eh la nozione di cittadinanza e le riforme scolastiche ad essa connesse in questi due decenni furono legate fino agli anni settanta eh non solo allo status legale di appartenenza alla comunità nazionale ma anche ad altri tre elementi chiave individuati secondo me molto chiaramente già nel millenovecentocinquanta dal sociologo Marshall cioè la cittadinanza civile politica e sociale. Quali furono i motivi del cambiamento tra anni settanta e ottanta? Diversi a mio avviso che qui non posso riassumere per mancanza di tempo. Eh il principale fu secondo me la la cooperazione internazionale e le ricerche promosse da alcuni enti che ebbero ricadute nazionali. Dalle ricerche trasnazionali già citate dell'IEA tra il sessantotto e settantuno all'indagine del Consiglio d'Europa dell'ottantadue alla ricerca condotta proprio sul campo tra l'ottantacinque e il novantacinque da Caroline Hahn che faceva sempre parte dell'IEA. Non ho tempo qui di riassumerle eventualmente ne parliamo nel dibattito e sono importanti le ricadute di queste eh ricerche eventualmente rimando al mio paper che sarà pubblicato nel sito. Tuttavia interessante notare in questa sede come i tre suttudi partissero dalla necessità di affermare una visione della cittadinanza come impegno alla vita pubblica. Questa si pose quindi vicino e accanto a quella giuridica. Nel corso degli anni ottanta a causa principalmente della diminuzione dei cittadini che esercitavano il diritto al voto vi fu un costante aumento in questo caso a livello globale dell'attenzione a temi legate alla democratizzazione e allo sviluppo della società civile attraverso le scuole. François Odighier ha suggerito all'interno di alcuni interventi per il Consiglio d'Europa che l'interesse nei confronti dei concetti cittadino e cittadinanza fosse dovuto alla nuova centralità di quello che lui definiva il del vivere insieme. Eh questa centralità era dovuto anche secondo Odighier alla crisi del concetto di stato nazione che aveva portato alla conseguente eh crescita di appartenenze esclusive con fenomeni di razzismo e di xenofobia. Questo in breve a cosa portò? A un cambiamento a metà degli anni novanta evidenziato sia nelle riforme scolastiche sia negli studi ad esse connesse in cui si attribuiva la parola cittadino fattori che erano comportamentali e che davano al costrutto una nuova connotazione che era propria dell'agire legata quindi ora alle conoscenze ai sentimenti agli atteggiamenti ai comportamenti delle persone. Le riforme dei curricula si focalizzarono per riassumere intorno ad alcuni punti cardine i principi democratici e i processi eh di quest'ultimi l'identità nazionale i valori della democrazia e della cittadinanza i doveri diritti e le caratteristiche delle istituzioni democratiche nonché la cittadinanza globale e infine la storia della Costituzione. In Europa poi i nuovi equilibri dovuti alla caduta dei regimi comunisti fecero emergere una discussione sul significato politico e legale che il termine cittadinanza avrebbe dovuto assumere all'interno dell'Unione Europea come noto ovviamente. Alla fine degli anni novanta sia la Commissione Europea che il Consiglio d'Europa dichiararono i diritti umani e la costruzione delle cito virtù del cittadino come individuo come elementi fondamentali per l'educazione della cittadinanza all'interno delle scuole. Gli alunni attraverso questa educazione avrebbero dovuto acquisire un senso di responsabilità verso la società e l'umanità più in generale. La cittadinanza doveva così divenire negli ideali degli stensori delle riforme una reale competenza come dimostra anche il secondo studio dell'IEA sull'educazione civica che considerò anche paesi appartenenti all'ex Unione Sovietica. Ecco qua i dati di cui parlavo prima. È importante sottolineare come gli Stati Uniti già nel corso degli anni novanta avessero promosso scambi internazionali come Civitas, corsi di formazione per insegnanti, progetti come l'education for democratic citizenship per promuovere la democratizzazione in consonanza con i tentativi dell'Unione. L'intento di lasciatemi passare questo termine portare ovviamente virgolettato la democrazia in questi paesi rappresentò uno dei punti di partenza anche per gli studi del Consiglio d'Europa che promosse un'idea di cittadinanza che non si acquisiva cito semplicemente dalla nascita e che non si limitava cito all'esercizio del voto ma che doveva richiamarsi ad idee di uguaglianza di diversità e giustizia sociale educando la persona cito affinché potesse impegnarsi nello spazio pubblico. Nel 2005 venne inaugurato lo European Year of Citizenship through Education che identificò chiaramente lo sviluppo della cittadinanza europea come priorità. A differenza del Consiglio d'Europa in questi anni la Commissione europea utilizzò in un primo momento il termine active citizenship cittadinanza attiva per poi passare al termine cittadinanza partecipativa per sottolineare il forte interesse secondo me sui temi delle conoscenze e delle abilità civiche in un'ottica di rafforzamento della partecipazione. L'analisi che ho condotto del rapporto euridice del 2012 ne è una conferma. Alla luce di questa ricostruzione che per forza di cose è per sommi capi emerge chiaramente la geometria variabile a cui fu soggetta l'educazione alla cittadinanza nelle riforme scolastiche a livello europeo e non solo. Particolarmente importanti risultano gli snodi politici internazionali, le politiche comunitarie che non ho avuto modo di illustrare nel dettaglio così come i singoli campi del sapere in gioco, le scienze storiche, le scienze sociali, la statistica come vedete qui e gli studi pedagogici i quali concorsero tutti nell'attribuzione di intenti teorici e di un assetto scientifico alla disciplina, un assetto che fu transnazionale che con il tempo come ho dimostrato nel paper ebbe propri interessi specifici e proprie regole del gioco all'interno dei campi del potere per utilizzare sempre una terminologia di Bourdieu, nazionali in questo caso ma anche sovranazionali. I paper che seguiranno il mio evidenzieranno ulteriormente il funzionamento del campo del sapere che andò costituendosi attraverso la pratica didattica, i calendari civili e le politiche della memoria. Ho concluso e aspetto le domande del discussant e poi della discussione e vi ringrazio davvero per l'ascolto. Ora è mio compito introdurre il paper successivo delle colleghe Claudia Villani e Lucia Boschetti messe nell'ordine penso di presentazione. Ecco qua il il cantieri. Grazie. Allora si vede, datemi una risposta. Allora si vede la condivisione dello schermo? Sì, sì, si vede. Ah ok, perfetto. Allora, cercherò di essere ancora più breve anche perché siamo in due, sette minuti e sette minuti è difficile. Allora, l'approccio generale di questo paper, l'impossibile cittadinanza del never again, è quello di collegare le politiche educative e l'educazione e la cittadinanza alle politiche della memoria. In questo quadro è chiaro che le politiche educative viste nel lungo periodo sono uno degli elementi fondamentali di risposta che gli stati e nazioni devono dare rispetto ai processi di globalizzazione. Le politiche educative tra 800 e XXI secolo quindi hanno temi diversi, sono sin dalla seconda metà dell'ottocento anche in dialogo reciproco tra diverse nazioni. La ricerca delle best practices comincia molto prima, ma i temi fondamentali dell'ottocento, identità nazionale e mercato del lavoro, poi nel novecento si aggiornano con tematiche in parte diverse, in parte sviluppano i temi avviati precedentemente, quello delle appartenenze plurime, quindi non soltanto quella nazionale, della relazione non tanto dell'educazione al mercato del lavoro ma proprio alle politiche di sviluppo e di crescita che diventa una questione fondamentale, tra l'altro una delle questioni fondamentali della battaglia della guerra fredda e si allargano anche a coprire la dimensione non formale e informale dell'educazione, quindi oltre la scuola pubblica e qui c'è tutta la tematica anche poi degli usi pubblici della storia, ma comunque nel novecento, anche nel novecento, si può vedere che ci sono alcuni periodi in cui si tenta e si ripensano le politiche educative. Il paper concentra in particolar modo sul periodo che va dagli anni novanta ad oggi. Io rimando al paper per tanti dettagli e per tante questioni che non è possibile qui riassumere, ma la tabella l'ho richiamata per far vedere proprio visivamente come occorre e certe volte è anche illuminante vedere parallelamente come si sviluppano le politiche educative nella famiglia dell'ONU, nelle Nazioni Unite, soprattutto l'UNESCO, come emerge via via il ruolo dell'Ocse in questo campo che diventa fondamentale tra anni 70 e 80 e per quanto riguarda l'Europa, l'Europa è un po' divisa tra il riferimento della famiglia dell'ONU, il riferimento all'Ocse, il ruolo importante del Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'educazione e diritti umani e l'insegnamento della storia e poi il processo di integrazione europea. Ecco, segnalo solo un punto, da un certo momento in poi, mentre prima ha un ruolo fondamentale il Consiglio d'Europa su questi temi, anni 70 e 80 emerge l'Ocse che ancora oggi con l'indagine in Pisa condiziona le politiche educative, da un certo momento in poi anche l'Unione Europea comincia a svolgere un ruolo importante. Questo lo si può leggere, se vedete, nel 1996 viene chiamato proprio Delors, protagonista e guida della Commissione Europea del Libro Bianco, a dirigere uno dei pochi e rari documenti di riferimento dell'UNESCO sulle politiche educative e sull'apprendimento. Questo documento, intorno a questo documento c'è un dibattito molto ampio, c'è chi lo considera un insieme postmoderno di tante posizioni, ma in realtà è un riconoscimento anche alla voce che proviene dall'Unione Europea in questo caso, che si candida ad essere la società della conoscenza più competitiva secondo una versione meno hard, ho provato a dire io, della versione anglosassone e neoliberale. Quindi lo spazio, l'Unione Europea da quel momento in poi diventa anche un agente importante per costruire lo spazio europeo dell'educazione e noi abbiamo provato a vedere questo tema vediamo se riesco ad andare avanti, questo tema in relazione alle politiche della memoria su questo rinvio all'intervento di Colla, perché ci spiega cosa c'è dietro la dichiarazione di Stoccolma e la decisione a livello europeo di dedicare una giornata della memoria alle vittime dell'olocausto. Qui invece sottolineo il fatto che poi nel 2005, quindi dopo questa particolare politica della memoria non solo diventa oggetto della ventottesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la prima dedicata alla commemorazione di un avvenimento, ma poi dà origine alla risoluzione che rende il 27 gennaio proprio la giornata mondiale di commemorazione delle vittime dell'olocausto. Adesso ci siamo interrogati, ho provato anche a farlo nel paper, sul perché si torna adesso su questa questione in questa forma. Ci sono tante spiegazioni molto complesse, quello che adesso voglio mettere in evidenza è che questo paradigma vittimario va visto in questo contesto, come hanno fatto ieri in un altro panel, non tutti i paradigmi vittimari sono uguali. Bisogna capire la specificità di questa svolta, male assoluto, innocenza assoluta, ho provato a riassumere così. Da questo momento in poi anche a livello internazionale si mette in moto una competizione, ognuno vuole la sua giornata per la memoria delle vittime di traumi storici, tragedie storiche. In quest'altra tabella quindi si vede come si moltiplicano nel corso del tempo. Ma se si poi confrontano, è interessante confrontare e vedere cosa viene riconosciuto per esempio nel calendario del Consiglio d'Europa dedicato all'educazione ai diritti umani, del più importante manuale di riferimento e coppa su questa questione, è importante rilevare cosa è comune, cosa non è comune, le differenze e anche diversi approcci. Qualche notizia in più su questo tema c'è nel paper, ma ovviamente è una ricerca molto più ampia. Se volete sfizzarvi un po' vi faccio notare che per esempio la giornata del 23 agosto è una giornata che ha un duplice significato per la famiglia ONU, è il ricordo della tratta degli schiavi e della sua abolizione e questo lo ricorda anche il Consiglio d'Europa. Però nell'ambito europeo, questa è una giornata introdotta non da Consiglio d'Europa ma da Parlamento, è anche il giorno del ricordo delle vittime dello stalinismo e del nazismo, è una proposta questa. E quindi si affiancano anche diversi significati, sempre partendo poi da quel paradigma vittimario diverso di cui abbiamo parlato. Però ecco, il Consiglio d'Europa riconosce il 23 agosto con questi due significati, non riconosce l'International Day of Remembrance of the Victims of Slavery, delle vittime della schiavitù e della tratta. Ed è singolare, insomma, per vedere come poi il rapporto tra culture storiche e culture civiche è sempre molto sensibile. Un'ultima tabella vi faccio vedere è perché mi sono chiesta, ma nell'ambito delle politiche educative dell'Unione Europea, poi quanto spazio effettivo ha i programmi di educazione alla cittadinanza con un'attenzione anche alla Remembrance Education, alla educazione al ricordo. Allora, facendo semplicemente un lavoro comparativo in base alle risorse, chiaramente l'asse prioritario è quello definito da DeLore in poi, e dobbiamo essere la società della conoscenza più competitiva, quindi lo spazio europeo dell'educazione si fonda su quello, su una determinata politica delle competenze che ritrovate negli ultimi documenti dell'Unione Europea su questi temi del 2020 e del 2021 che ho segnalato nella prima tabella. Mentre l'educazione alla cittadinanza, l'educazione ai diritti umani, al cui interno nelle fasi, in alcuni decenni sono stati presenti assi di intervento sull'educazione al ricordo, adesso sono state finanziate in maniera molto minore, adesso le cifre magari potete vederle anche nel paper, ma concludo su questa centralità, l'approccio etico-giuridico alla responsabilità individuale, come se questo fosse il cuore della questione, essere competenti è una responsabilità individuale, essere cittadini attivi e democratici è una responsabilità individuale in base a una certa politica della memoria che abbiamo provato a definire come politica del trauma. Altra cosa è la comprensione storica, vi faranno vedere i colleghi che significa. Do la parola a Lucia subito. Grazie Claudia. Allora, condivido anch'io il mio scarico. Intanto buon pomeriggio a tutti, ecco si vede, sì. Buon pomeriggio, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori e anche a quelli ai colleghi di questo panel per il confronto che è nato sui temi dei quali ragioniamo insieme a questo pomeriggio. La mia parte di intervento, come vedete dalla prima slide, verte sul rapporto tra le raccomandazioni ufficiali che il Consiglio d'Europa ha approvato negli ultimi decenni per l'insegnamento della storia e i materiali didattici che sono stati prodotti nel corso dei progetti che lo stesso Consiglio ha organizzato, in particolare mi soffermo su quelli relativi all'insegnamento dell'Olocausto. Utilizzo quindi le raccomandazioni, i rapporti dei vari gruppi di lavoro e dei seminari e i materiali pubblicati rivolti agli insegnanti e all'educazione non formale. Sosterrò che all'interno del curriculum che questi documenti delineano si possono notare in sostanza due percorsi paralleli che si sviluppano a partire dal momento in cui la remembrance education viene introdotta tra gli obiettivi delle politiche educative. Vado quindi a descrivere tre modelli che mi pare possano essere identificati e prospettino un progressivo cambiamento negli obiettivi dell'insegnamento della storia. Il primo modello, che possiamo collocare cronologicamente dal 1992 al 2001, vede l'introduzione del tema dell'Olocausto nel contesto di una riflessione sulle abilità del pensiero storico. Questa riflessione è finalizzata a riformare, in senso non dogmatico, l'insegnamento nei paesi dell'est Europa. Questo modello è caratterizzato da tre aspetti. In primo luogo un progressivo abbandono nei documenti ufficiali di espressioni che attribuiscono alla storia la funzione di fondamento della coscienza europea e dell'idea di unità europea. Espressioni che erano presenti nella proposta di mozione sull'insegnamento della storia avanzata nel 1992 per rilanciare l'attività del Consiglio dell'Europa in questo campo, nel momento in cui il suo baricento, non solo chiaramente per quanto riguarda le politiche educative, ma più in generale per tutta l'attività istituzionale, si spostava verso est. Nella mozione effettivamente approvata poi nel 1996 invece il focus si è spostato. Il secondo aspetto che caratterizza il modello è che le riforme dell'insegnamento che sono appunto intraprese in un tentativo di democratizzare i paesi dell'est Europa sono condizionate dal concetto di sicurezza democratica formulato nel vertice di Vienna del 93. Dal vertice di Vienna in particolare due risultati sono rilevanti per il tema che ci interessa, cioè l'approvazione dell'azione per la protezione delle minoranze e quella del piano per la lotta all'intolleranza, alla xenofobia, al razzismo e ad antisemitismo. L'azione per la protezione delle minoranze impegna infatti gli stati a promuovere lo studio delle storie di gruppi minoritari che misura crescente e chiedono un riconoscimento, mentre il piano per la lotta all'intolleranza prevede che venga potenziata l'educazione ai diritti umani come misura di prevenzione, come vedete appunto un tema ricorrente che è emerso via via nelle nostre relazioni. Proprio nel contesto di questo sostegno all'educazione ai diritti umani, nel 1994 l'Holocausto viene proposto come fondamento alternativo dell'identità europea rispetto alla contrapposizione con il mondo sovietico e la storia degli ebrei nel dopoguerra assume il ruolo di modello per le minoranze dell'Europa centro orientale. Il terzo aspetto di questo modello è che questa evoluzione nella prima metà degli anni 90 avviene in parallelo all'inizio dei dibattiti nell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a proposito delle mozioni di illustrazione. In questo contesto i parlamentari soprattutto dei paesi baltici accentuano la correlazione tra passato e presente in funzione preventiva rispetto alla possibilità che vengano reiterati quelli che spingono per definire crimini comunisti con tutto il dibattito diciamo sulle mozioni che poi concerrano il totalitarismo. In questa prima fase ci troviamo di fronte a due tipi di materiali didattici. Sono accomunati da due caratteristiche. Entrambi sono rivolti all'educazione formale perché come vi dicevo il quadro è quello della riforma delle istituzioni scolastiche. Entrambi poi vengono prodotti all'interno di un unico progetto sull'insegnamento della storia d'Europa nel ventesimo secolo. Tuttavia se andiamo a osservare la guida complessiva per l'insegnamento della storia del ventesimo secolo notiamo che al suo interno l'olocausto è proposto come questione sensibile nella didattica della storia il cui ruolo esemplare deriva dal fatto che permette di comprendere e cito la natura fondamentale della disciplina storica. Cioè la storia viene presentata come un'interpretazione basata sull'argomentazione razionale e sostenuta da fonti di cui un'ampia attenzione appunto all'utilizzo delle fonti in classe. Nell'altro caso invece cioè i seminari che sono dedicati specificamente all'insegnamento dell'olocausto l'attenzione è posta in via preminente sulla necessità di restituire dignità alle vittime e sul rischio che si possano presentare competizioni da parte di diversi gruppi di vittime. Come potete vedere dalla citazione che lascio diciamo alla vostra lettura eventualmente poi al commento in questo contesto si apre la possibilità che ci sia una contrapposizione tra la ricerca storica e la storia come disciplina scolastica. La compresenza di queste due linee di intervento una orientata appunto al pensiero storico e l'altra invece che accentua maggiormente la questione della dignità delle vittime si ritrova nella raccomandazione del 2001 sull'insegnamento della storia dell'Europa nel ventunesimo secolo. Questo è il documento più ampio dedicato a questo tema da un'istituzione europea quindi meriterebbe chiaramente un approfondimento a sé stante. Io mi limito a proiettare poi eventualmente a commentare il paragrafo che è dedicato proprio all'educazione, alla remembrance education. Passo nel frattempo, come vedete alcuni punti sono sottolineati, eventualmente ci possiamo tornare. Passo invece al secondo modello che possiamo identificare a partire dal 2003, quando con il progetto Teaching Remembrance l'educazione alla memoria viene isolata da quella storica. È necessario però precisare il fatto che in questo contesto si distingue tra educazione formale ed educazione non formale e si ribadisce che gli insegnanti devono curare la contestualizzazione delle attività per la giornata della memoria nell'ambito dell'educazione formale. Tuttavia come questo debba avvenire nell'ambito dell'educazione formale non è preso in carico nei materiali. Piuttosto vediamo che viene accentuata l'importanza della ricostruzione dell'identità delle vittime e non più anche di quella dei carnifici e il valore universale dell'olocausto come metafora, come si diceva prima. Vi avvio a concludere sottolineando che in questo secondo modello ciò che emerge pur nella complessità dei materiali che ora non posso approfondire è che quando andiamo ad osservare le attività di debriefing o quelle rivolte alle valutazioni per esempio dell'esperienza della visita ad Auschwitz viene empatizzata l'azione individuale a tutela dei diritti umani. Questa azione è alla base dell'atteggiamento proattivo che diventa esclusivo dell'ultimo modello emerso negli ultimi dieci anni. Concludo sottolineando che in questo caso siamo di fronte ad un capovolgimento del punto di partenza in quanto i temi della memoria sono inseriti nell'educazione dei diritti umani con l'obiettivo di far progettare e attuare azioni di partecipazione civica. Inoltre il modello è basato su materiali che sono pensati per l'educazione non formale ma che vengono usati nelle scuole in sostituzione di quelle operazioni di contestualizzazione che prima veniva invece demandata agli insegnanti senza però che venissero appunto elaborati per questo materiali specifici. Vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso del minuto in più che ho preso e poi possiamo magari approfondire. Grazie, ora introduco Piero Colla dell'Università di Strasburgo, le colleghe precedenti dell'Università di Bari. Il titolo dell'intervento è il caso di Levande e storia, memoria di genocidi o terapia collettiva? Prego. Grazie mille, vedo di rendere visibile la presentazione. Il mio intervento è imbastito intorno all'eluzione del tema della memoria dell'ultima guerra, in particolare della Shoah, nell'agenda civile di un paese europeo e delle risposte che consentono di gestire nello spazio pubblico, in termini didattici, il cortocircuito tra passato e presente, di cui si è discusso in varie e già in altre forme. Il contesto è quello della Svezia, dove si è stati addirittura tentati di datare l'epifania di quel passato e l'attualità. Uno storico di Lund, Karl Joram Karlsson, ha sostenuto che il 1997 segnerebbe la data di ingresso della Svezia nella Seconda Guerra Mondiale. Un elenco di 28.000 nomi di aderenti svedesi di organizzazioni filonaziste tra il 1931 e il 45, gettato in pasto al pubblico da un ricercatore di storia, sintetizza questa svolta della coscienza civile, che si trascina su tutto un decennio con la dicostruzione polemica di una precedente rappresentazione positiva, immacolata, della neutralità svedese durante il conflitto. La prossima slide visualizzano questa liberazione della riflessione critica col compito dei saggi e delle ricerche storiche pubblicate intorno a due oggetti, la Shoah e il nazionalsocialismo. Questa slide, la prima, è una grafica semplificata, mentre la seconda, più precisa, consente di collocare esattamente l'impennata, abbastanza impressionante, nel numero di pubblicazioni tra il 93 e il 99. Il punto apicale di questo inclinarsi di una DOCS è un evento, diciamo, catarchico, che ha come scenario l'aula della Riksdag del Parlamento svedese. In giugno, alla chiusura dell'anno parlamentario, il premier socialdemocratico Joram Persson, rivelò che, stando a un'inchiesta del centro di studi multiculturali dell'Università di Uppsala, un terzo degli alunni svedesi, l'inchiesta era su una base, diciamo, su un campione molto ampio, di più di 10.000 alunni, noterebbe dubbi, incertezze sulla realtà storica della Shoah. Quindi, davanti ai rappresentanti della nazione, Persson, un leader permatico che mai aveva manifestato interesse per la storia, invoca contromisure per colmare un deficit cognitivo identificato come pericoloso sullo sfondo dell'attivismo dell'estrima destra nelle scuole. Il caso che vi presento, quindi, si colloca tra le risposte offerte da un sistema integrato di governance, dove intervengono amministrazione pubblica, enti di ricerca, ONG e scuole, di fronte a questa immersione del rimosso. La permeabilità degli alunni al negazionismo, infatti, è letta come un indice di vulnerabilità collettiva alla tentazione totalitaria, un'assenza di consapevolezza storica che, anche le rivaliazioni a cui ero accennato sui crimini rimossi, come i lasciti, ad esempio, di una genetica di Stato nel sistema di welfare svedese, mettono sotto accusa. La proposta di Persson suscitò un consenso bipartisan e un'assunzione di responsabilità ai livelli più alti dello Stato. Una task force venne creata immediatamente dall'ufficio privato del primo ministro, sotto la responsabilità della vice primo ministro, e avvia un'azione di informazione, così fu definita e non campagna, senza precedenti neppure nella Germania dopo il 1945. A sei mesi dall'annuncio di Persson, un volumetto di 84 pagine, di cui potete vedere la copertina, un gruppo di deportate ungheresi destinati in attesa davanti alle camere a gas, è ricapitato a ogni famiglia con bambini in età scolare, con una tiratura, rispetto a una popolazione svedese di quasi 9 milioni di abitanti, di 200 mila esemplari, che diventano un milione entro un anno, quindi una ogni 8-9 abitanti. Il titolo è ripreso dal libro dei profeti, Gioele 1.3, di questo racconterete. L'impegno svedese nel costruire un modello di pedagogia civile capillare, valso alla Svezia, e questo è un altro elemento di interesse, una posizione di leadership internazionale. Dopo colloqui con Clinton Blair, Persson convoca a Stoccolma nel 98 la prima task force per la sensibilizzazione alla Shoah. Viene fondata in quell'occasione la International Holocaust Remembrance Alliance, i cui compiti sono sempre a Stoccolma codificati nel 55esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Per l'identità svedese, questo memory turn implica un cambiamento di registro che è più profondo rispetto, a mio avviso, a tutti gli altri contesti di formalizzazione di questa memoria in Europa. E tuttavia la Svezia precede queste iniziative le stimola e fornisce loro un modello, che è quello presentato qui, cioè la trasformazione dell'iniziativa del 97 in un'agenzia pubblica, il forum Levan di Storia, di cui potete vedere appunto facciate locali interne, estremamente presente allo spazio mediatico, come nell'editoria scolastica, avvantando ormai 18 anni di attività. Oggetto continuo di polemiche, di bilanci, si è mutata soprattutto in qualcosa di estremamente diverso dalla Bosso del 97, con un'estensione del suo campo di intervento che rende ancora più originale il tipo di dialettica per Stato, educazione storica, mobilitazione civile e insegnamento che vi si esplica. Prima ancora di aver assimilato il concetto di dovere di memoria, la Svezia lo trasforma in una prassi burocratica. L'esplorazione quindi della struttura organizzativa di questo ente, la sua articolazione con enti di ricerca e di intervento sociale da una parte con la scuola, è stato il mio oggetto di ricerca e ci conferma l'originalità di questa esperienza per la Svezia in senso globale. La cornice giuridica è quella che ricavate qui e che è precisata anche in questi elementi dell'inchiesta preparatoria. Questo ambito di azione, appunto per quanto molto esteso, esclude due aspetti centrali, ossia l'attività di ricerca propriamente detta e una definizione autonoma di target e aree tematiche. Al contrario, poiché gli obiettivi politici di riferimento riguardano il miglioramento della coesistenza tra i gruppi etnici e il superamento del pregiudizio, si prestano a cogliere qualsiasi nuova priorità fissata del governo e Parlamento. Rispondere quindi a incarichi ad hoc per tradurli in iniziative di ricerca e poi strumenti didattici o manifestazioni pubbliche adattati al target è una dimensione centrale del lavoro del forum, l'unica in cui esso abbia sviluppato un know-how specifico. Questi compiti si succederanno con frequenza al punto di rendere quasi impossibile soddisfarli, come ha rivelato uno studio d'impatto e, per fare un esempio, nel 2021 al forum è aspettato il compito di organizzare i festeggiamenti per il centenario del suffragio universale in Svezia. La struttura organizzativa dell'agenzia conferma questa dipendenza da una duplice catena gerarchica, quindi politica attraverso la presidenza e scientifica con la figura del sovrintendente che è stato sempre uno specialista di studi attorno al nazionalsocialismo in Europa del Nord. Soprattutto l'articolazione avviene fino al 2017 quando questa struttura è stata modificata. In due dipartimenti l'ufficio questioni speciali proposto alle azioni di informazione specifica e un dipartimento denominato produzione che è esemplificata questa funzione principalmente operativa della struttura, convertire la storia in risposte efficaci e impregativi sociali. Questa è la struttura quindi attuale. Fin dall'origine quindi questo forum non emerge come un soggetto autonomo attivo in un campo dello scibile determinato, gli studi sul genocidio, ma come un treginion tra la ricerca e iniziative di altre agenzie impegnate sul fronte del dialogo interetnico. La prima direttrice ad esempio proveniva dall'ente della prevenzione del crimine. Con queste premesse era prevedibile una rapida estensione del focus dell'agenzia che apre un interrogativo sul ruolo stesso del riferimento alla Shoah nella mission dell'agenzia. Ruolo non tanto di un luogo di memoria da coltivare ma di un modello, una tipologia di intervento, di un uso edificante del passato, di tutti i passati. La vita di questa istituzione orientata quindi al consenso e alla pacificazione non è stata affatto tranquilla. A pochi mesi alla sua istituzione uno dei partiti di maggioranza, il partito della sinistra, ne chiedeva la soppressione accusandola di voler occultare i crimini dell'Occidente, il colonialismo, tutto quello che appunto appartiene all'esperienza delle democrazie occidentali. L'opposizione conservatrice muoveva i rilievi di segno esattamente opposto, cioè l'improvera valente di enfatizzare i crimini del nazionalsocialismo evitando una presa di coscienza del ruolo del movimento comunista. La lista dei progetti che abbiamo davanti sintetizza la reazione a questi attacchi, una strategia definirei di cannibalizzazione, la cui espressione più lampante è l'allargamento del mandato ai crimini del comunismo, che appare in questa brochure che può considerarsi il pondant di De Questorio, racconterete, per quanto riguarda l'ambito Europa dell'Est e stalinismo. Direi che, visto che la maggior parte delle istanze critiche che chiedevano, che contestavano l'oggetto del forum, gli chiedevano in realtà di ampliarne il focus e di attivare la reazione a ogni manifestazione del male nella storia, la critica ha paradossalmente rafforzato l'autorità e la logica, diciamo, tra lo strumentale e il burocratico dell'Agenzia. Concludo con gli ultimi due minuti accennando a una relazione tra questo carattere calamaleontico dell'Agenzia e il suo rapporto problematico, molto problematico, con l'insegnamento della storia. La contraddizione è abbastanza semplice dai nucleari, oppure avendo al centro delle sue missioni l'elaborazione di supporti didattici, il forum non ha contribuito né con la sua creazione né durante la sua esistenza alla promozione dello status dell'insegnamento della storia in Svezia. Anzi, la sua scesa coincide con la fase di crisi più acuta. Alla fine degli anni 90 solo metà degli studenti del liceo, quindi tre indirizzi su 17, ricevevano in qualsiasi forma un insegnamento di storia, mentre si conformava la tendenza a colpare questo insegnamento con altre materie. Il fatto che la produzione di questi contenuti museali e didattici da parte di Levante Storia tenda a tradurre dinamicamente gli obiettivi posti dall'autorità politica, l'ha allontanata dalla storia insegnata a scuola, mentre le sue risorse sono andate a alimentare altri ambiti disciplinari, quelli che fanno capo a ciò che chiameremmo educazione civica, che è un concetto però più conosciuto all'uso svedese, che dagli anni 60 privilegia il concetto americano di studi sociali, ai quali è riconosciuto da allora e sempre più in termini di orario, presenza e gli odi di insegnamento, un posto ben più rilevante della storia. Riunendo i due aspetti possiamo dire che se questa vocazione ecumenica, la sintesi tra commemorazione, trasposizione didattica e militanza, qualificano l'Evante Storia come un unicum tra le istituzioni di memoria a cui si apparenta, dal memorial della Shoah alla Holocaust Memorial Foundation, l'accollo che invece in perfetta continuità con un'azione di promozione di valori svedesi coesibili e nazionali, che proprio negli anni 90 conosce una codificazione in sedia di riforma scolastica. Questa è fondata sulla centralità di una base etica imprescindibile, detta in svedese Verdegrund, che trascende gli obiettivi culturali di ogni materia e si pone in condività con le riforme precedenti degli anni 70 e 80, che tendevano a contrastare l'isolamento, fra virgolette, della scuola per abbracciare la realtà, il mondo sociale, sempre con la terminologia dell'epoca. In questo processo l'obiettivo non è portare l'etica al centro del discorso, ad esempio la filosofia ha un ruolo estremamente poco presente nell'insegnamento svedese, ma creare coesione sociale attraverso il riconoscimento reciproco, il dialogo rispetto ai rispettivi punti di vista e a temi di attualità, collegati in ultima nasi a un conflitto tra memoria. In sostanza, le van di storia mi sembra intervenire secondo principi analoghi e in realtà essere un'istituzione meno innovativa di come sembra nel contesto svedese, pur ponendo la questione di una memoria imperativa al centro. Le storie che aiuta a tessere compongono la narrazione edificante di una società divisa nel passato che si protende verso la riconciliazione, ieri come oggi. È in questa direzione che puntano anche gli ultimi sviluppi della istituzione, con anche la conseguente inadeguatezza a soddisfare i propri requisiti di un'istituzione di memoria. Infatti assistiamo adesso a una competizione col futuro museo della Shoah in via di creazione, progettato anch'esso in reazione a un'allarme sociale, cioè l'antisemitismo di matrice islamica e che rischia finalmente di privare il forum del fultero iniziale del suo mandato. Grazie e insomma non avevo il cronometro visibilissimo ma spero. Allora, ora interviene Luigi Ambrosi, lui è ricercatore indipendente ma conosciuto. Stragi e terrorismi visti dagli studenti. Cerchiamo di rimanere nei giorni. Io andrò proprio per flash allora. L'obiettivo del mio paper è quello di studiare l'apprendimento delle stragi e dei terrorismi in Italia per il rapporto fra violenza e democrazia che è importante per l'educazione alla cittadinanza. La base documentaria è quella di 50 prodotti multimediali presentati al premio Tracce di Memoria della Rete per gli Archivi per non dimenticare e ha diversi pregi. Uno è il punto di vista di prodotti realizzati, quindi non di progettazione ma di prodotti realmente fatti dalla primaria alla secondaria che rispondono a dei criteri omogenei e che sicuramente rispondono alla logica delle indicazioni nazionali, alla logica della centralità dello studente, del punto di vista dello studente. Come sappiamo, o come molti di voi sapranno, il premio Tracce di Memoria conferisce i premi, appunto, scusate la ripetizione, il 9 maggio in occasione della giornata per le vittime del terrorismo. Quindi è inevitabile che il paradigma vittimario agisca sulla maggior parte di questi lavori. Però io non voglio mettere solo in evidenza gli effetti collaterali, ma voglio mettere anche in evidenza le opportunità, non solo i problemi, ma anche quelle che sono i vantaggi del paradigma vittimario. Cominciamo dai problemi, visto che voglio mettere prima la parse d'enstruence, ma poi, diciamo, mettere quella costruence per sottolinearla. Uno dei problemi, per esempio, è che in alcuni casi ci sono dei prodotti che mischiano, mischiano tantissime vittime diverse e quindi nel fare questa operazione mischiano la 1 bianca, perché il bando dice di parlare di terrorismo e di violenza politica, quindi probabilmente la 1 bianca è sotto la voce violenza politica o terrorismo, non si sa bene, però le definizioni sono 1 bianca, però mette in mezzo anche lo studente ucciso dai carabinieri Francesco Lorusso e nello stesso tempo Marco Biaggi, il giusto lavorista ucciso dalle brigate osse. Voi capite che questa cosa per dei bambini della primaria non costituisce un problema, ma per i ragazzi delle superiori potrebbe sollevare parecchi dubbi e confusione. Non ci sono carnefici o colpevoli, come li vogliamo chiamare, e su questo vorrei richiamare il discorso allo studio del terrorismo islamico, più attuale. Ci sono alcuni prodotti che parlano di terrorismo islamico, perché non c'è questo limite sul terrorismo internazionale, e uno dei modi migliori per costruire consapevolezza negli studenti, varie pubblicazioni dicono sia quello di studiare anche i colpevoli, per non ripetere quelle condotte. Attori. Gli attori, essendo vittime, sono sempre puri, e questo costituisce un grossissimo problema per quanto riguarda la violenza politica degli anni settanta. Per cui Fausto Eiaio del Centro Sociale Leon Cavallo o Sergio Ramelli del Movimento Sociale, pur essendo vittime, frequentavano ambienti in cui la violenza politica era diffusa, era accettata come mezzo di azione politica. quindi crea un effetto molto straniante. E poi c'è anche il discorso che quasi tutti i prodotti si concentrano sugli anni settanta, pur il bando richiamando la possibilità di partire dal 46, e sono completamente esclusi gli anni cinquanta, anni di grande violenza politica, che pur rientrano per esempio con il caso un po' spurio di Portella della Ginestra. E qui ci sarebbe un discorso da approfondire sul fatto che cos'è la violenza politica. La violenza politica è quando le vittime sono, diciamo, manifestanti o è anche, cioè quando sono appartenenti alle forze dell'ordine o anche quando sono manifestanti, perché lo scenario è lo stesso, è lo scontro in piazza. Le opportunità, l'empatia, l'empatia attraverso un racconto delle vittime si crea empatia. Cinzia Venturoli, molti lavori riguardano proprio la strage di Bologna del 2 agosto 1980, su questo ha studiato molto e ha giustamente sottolineato come è possibile coinvolgere gli alunni, coinvolgere i ragazzi studiando le vite delle vittime e raccontando le loro storie. E c'è in questo senso anche da fare riferimento, perché io ho analizzato, rimando al paper per questo, visti i pochi minuti che abbiamo, ai mediatori didattici. Uno dei mediatori più utilizzati e più efficaci secondo me è quello della mediazione teatrale, secondo la classificazione di Elio Damiano, del pedagogista Elio Damiano, una mediazione analogica. Invece ci sono altri problemi che non riguardano il paradigma vittimario, per cui anche in un caso come questo il paradigma vittimario non è esaustivo di tutti i problemi. Scarsa internazionalizzazione, uno scenario non completo, spesso non appaiono per esempio i politici se non nel ruolo di vittime, non agiscono come invece attori politici e poi c'è il problema della violenza dello Stato. La violenza dello Stato e in particolare pensiamo ai casi come le stragi in cui ci sono uomini dello Stato che sono coinvolti come complici, come depistatori o addirittura come complici, crea un effetto di straniamento notevole che sicuramente per i ragazzi un po' più grandi andrebbe sviluppato un po' meglio. Ancora qualità, gli anni 70 in moltissimi lavori vengono trattati anche come anni di riforme, come anni di ideali, magari con uno schema un po' rigido di rapporto tra questo e la violenza, ma non vengono trattati solo come anni di piombo e già questa è una cosa importante. Nell'ultimo minuto, e mi sembra di essere stato benissimo nei tempi, volevo sollecitare e sottolineare il fatto che secondo me non è possibile studiare, insegnare gli anni 70 senza una convergenza tra gli studiosi accademici e i docenti, ma non nel senso che gli studiosi accademici fanno dei corsi di formazione ai docenti, ma ci vorrebbe come in questi lavori una consulenza, una capacità anche di seguire da parte degli studiosi accademici questi lavori perché il mezzo, soprattutto in questi casi così controversi, il mezzo di rappresentazione, nel mezzo di comunicazione non può essere disgiunto dal contenuto e dal merito. Quindi io penso che su questo punto tocca un tema che riguarda anche la public history, dove il rapporto fra metodo e merito, fra mezzo e contenuto è pure molto importante ed è uno dei nodi problematici principali. Lascio la parola ad Andrea. Grazie mille anche per questo invito, poi speriamo di aver modo di riprenderlo perché per noi come gruppo è importantissimo. Andrea Miciche dell'Università di Enna Core, la scuola, la lotta alla mafia e il calendario civile. Prego Andrea. Allora, cercherò di essere brevissimo, spiegherò la ricerca che ho svolto, poi chi ha interesse ad approfondirla potrà leggere il paper successivamente o chiedermelo direttamente. Per esempio questa foto vi faccio vedere subito e non posso spiegarvi il senso di questa immagine, posso dire che è una fake, cioè è un'immagine che riporta una citazione falsa. Chi ha interesse ad approfondirla o ne parliamo dopo o può leggere il paper. Qual è la ricerca? Come si è strutturata la ricerca? Innanzitutto è partita da una domanda molto semplice. Come si parla, come si affronta il tema dell'antimafia all'interno delle attività didattiche durante l'anno scolastico e in relazione al calendario civile, partendo dal presupposto che generalmente questi temi vengono affrontati soprattutto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, soprattutto in questi momenti, cioè in relazione al calendario civile e le giornate alla memoria. Quindi l'idea è stata quella di andare a vedere che tipo di attività didattiche vengono svolte e si è partito, non potendo fare un'indagine sistematica, si è partito da un universo che è rilevante dal mio punto di vista, ma anche da quello di Luigi perché le due ricerche andavano in parallelo, che è quello dei prodotti didattici che sono pubblicati su YouTube e che sono relazionati a vari concorsi dell'ultimo quinquennio indetti da varie associazioni come Libera, come la Fondazione Falcone, la Fondazione Borsellino o come il concorso indetto dall'archivio Flamigni insieme al MIUR, che è stato trattato anche da Luigi per quanto riguarda il tema del terrorismo. Allora, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era cercare di capire, non giudicare la qualità di questi prodotti, ma capire come questi prodotti vengono realizzati e se la realizzazione di questi prodotti, come dire, dialoga con quelli che sono gli obiettivi e i metodi della didattica della storia. Cioè, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto se erano presenti delle narrazioni storiche all'interno di questo prodotto, fatto tutt'altro che scontato, come vedremo, se erano presenti delle contestualizzazioni, una dimensione temporale in cui collocare questi fatti, se erano stati utilizzati delle fonti storiche o delle fonti strumento, cioè il semplice reportage, la narrativa, i documentari. Se si era fatto evidentemente riferimento alla storiografia o al lavoro di storici, mi faccio riferimento per esempio alle tante video interviste, per esempio sul tema della mafia, ci sono tantissime interviste di Salvatore Lupo, che tra l'altro ho inserito anche nel paper, che potrebbero essere un riferimento per chi vuole affrontare questi temi. E poi ovviamente sono andato a verificare se gli studenti hanno avuto, ho cercato di analizzare i prodotti per capire se gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nella realizzazione di questi lavori. Ovviamente tutto nella logica del pensare storicamente, cioè questi prodotti aiutano i nostri studenti a pensare storicamente. Ribadisco che l'analisi è stata svolta sui prodotti che sono realizzati da bambini di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, facendo quindi riferimento a un quadro che è molto chiaro, che è quello delle indicazioni nazionali del 2012, oltre alle definizioni di educazione e legalità che troviamo sul sito del MIUR e a cui fanno riferimento, dovrebbero fare riferimento gli insegnanti nel trattare questi argomenti. Questi lavori sono stati raggruppati in quattro gruppi, in quattro categorie. Il primo gruppo, diciamo, riunisce quei lavori in cui c'è un dialogo con la didattica della storia, cioè sono presenti delle fonti storiche, c'è una qualche interlocuzione con la stereografia, c'è un ruolo attivo dei bambini, insomma c'è un dialogo con la didattica della storia e una frequentazione, più o meno, con gli strumenti e con gli obiettivi della didattica della storia. Diciamo subito che solamente uno dei sette video prodotti che sono raggruppati in questo primo gruppo può essere, diciamo, definibile come un laboratorio di storia. Il secondo gruppo riunisce i lavori in cui contestualizzazioni, fonti, ricostruzione hanno esiti, diciamo, più frammentari, parziali, diciamo, discutibili e gli altri due gruppi sono gruppi in cui invece non c'è sostanzialmente nessun dialogo tra i lavori realizzati e quelle che sono, diciamo, metodi obiettivi della didattica della storia. Vi è una differenza tra i due gruppi perché il quarto gruppo, che è quello più, diciamo, corposo, 20 dei 57 video rientrano in questo quarto gruppo, sono quelli in cui si sceglie la strada della semplice testimonianza, cioè sono dei lavori che consistono in testimonianze di vittime, meglio, di vittime, di parenti, figli, genitori di vittime, oppure su espressioni artistiche. Molto gettonata è la canzone, la realizzazione soprattutto di canzoni da parte delle scuole, che spesso sono anche molto carine, molto efficaci. Quali sono le riflessioni, sto andando molto rapidamente, quali sono le riflessioni che possiamo fare? Allora, innanzitutto, l'abbiamo già detto, che solamente un lavoro su 57 è configurabile come un laboratorio di storia. È un lavoro sui fatti di Portella della Ginestra, realizzato da una scuola secondaria primo grado di San Giuseppe Iato, che guarda caso cerca la consulenza di uno storico Pierluigi Basile, un bravo collega, e realizza un bel lavoro, un bel laboratorio, efficace a tutti i punti di vista e anche, come dire, un modello da cui fare riferimento. Questo è il primo elemento. La secondo, come dire, quello che viene fuori dall'analisi, il secondo elemento che è venuto fuori riguarda la centralità della memoria, che è ovviamente un processo generalizzato. Qui andrò molto veramente rapidamente, perché i temi sono complessi. Questo è legato a, appunto, un discorso pubblico in generale, in cui il paradigma vittimario è centrale, è centrale alla figura del testimone, è legato anche all'assenza di una religione civile, diciamo, dopo la fine della Prima Repubblica. È un tema estremamente complesso, ma diciamo, la centralità della memoria del discorso pubblico è un fatto che va al di là della realtà scolastica. Poi ci sono poi degli elementi che sono propri del mondo della scuola. Il fatto che questi temi, in particolare il tema dell'antimafia, viene affrontato in relazione al calendario civile e in relazione all'attivismo di associazioni, come Libera, come la Fondazione Borsellino, la Fondazione Falcone, che concentrano tutte le loro attività, tutta la loro iniziativa sul tema della memoria. Quindi, questa, diciamo, questo rapporto tra scuola e associazioni mette al centro il tema della memoria. Tra l'altro, gli insegnanti, evidentemente, ritengono e considerano la memoria come, diciamo, un vettore più efficace per addentrarsi e per relazionarsi con il passato. Anche perché dà l'idea di una presa più diretta con il passato, di essere sperimentale, ovviamente, venendo meno quella che è una distinzione fondamentale, ma questo, insomma, ne parleremo rapidamente, tra storia e memoria. Altro dato fondamentale è che solamente in uno dei 57 lavori che abbiamo analizzato viene citata la parola storia. Solamente nel primo, quello di, diciamo, che possiamo considerare un modello di laboratorio di storia. In tutti gli altri 56 la parola storia non viene mai menzionata. Altra riflessione importante è che qui non abbiamo solamente la centralità della memoria, ma è una memoria particolare, peculiare, perché è una memoria priva di narrazione. Una memoria del tutto astorica, decontestualizzata, iconica, simbolica, emozionale, tesa a favorire, diciamo, la partecipazione dei bambini, ma non a fargli comprendere, diciamo, l'origine, il contesto in cui si svolgono i fenomeni. Cioè, le vittime stanno tutte in un unico grande contenitore, le vittime castuali o Falcone, e sono accomunate dal fatto di essere vittime, cioè di essere vittime di mafia. E quindi non vengono, diciamo, ricostruite e raccontate per il loro vissuto, per quello che hanno fatto in vita, ma semplicemente per essere vittime. E in ciò, come dire, questa rappresentazione diventa spesso una rappresentazione iconica, per cui Falcone, appunto, non viene raccontato per quello che ha fatto, ma in relazione a una frase che in qualche modo la caratterizza, la contraddistingue. Il caso del Pino in passato, da questo punto di vista, è eccezionalmente, diciamo, paradigmatico. Tra l'altro, molto spesso questa dimensione iconica, storica, emozionale della memoria è una dimensione localistica. Cioè, ciascuna scuola tende a, come dire, a privilegiare la propria memoria, cioè la propria vittima, la vittima del proprio paese o del circondario, della propria regione. Quindi, creando un culto della vittima che, ovviamente, ha una dimensione locale e forma ed è utile anche a cementare identità che non sono solamente identità più ampia, ma identità più, diciamo, geograficamente definite. Per stare nel dieci minuti, come è previsto, dico che rimangono dei problemi aperti. Un primo problema aperto è quello, ovviamente, della, diciamo, debolezza della didattica della storia, a differenza della public history che, invece, su questi argomenti già si sta cimentando. Basta vedere i lavori di Marcello Ravveduto. La debolezza di didattica della storia a dialogare con gli insegnanti in relazione, appunto, ai problemi che il calendario civile pone, alle sollecitazioni che il calendario civile pone. Questo è un grande tema. L'altro grande tema è l'assenza di un'inchiesta di ampio respiro sullo stato dell'arte e dell'insegnamento della storia, che sarebbe necessario, perché questo è, come dire, un'apertura di discussione, ma in realtà sarebbe necessaria un'inchiesta di ampio respiro su come si insegna storia a scuola. E poi l'altro grande tema è che, invece, di tipo, diciamo, storiografico, che riguarda la trasformazione dell'antimafia negli ultimi 30-40 anni, perché questa, diciamo, riflessione ci dà anche questa chiave di lettura. Com'è cambiata l'antimafia negli ultimi 30-40 anni? La scuola ci dà già un'idea di come questa sia mutata negli ultimi anni. Vi ringrazio e spero ci siano domande. Lascio la parola al nostro discussant, Serge Noiré. Sì, grazie, grazie veramente di questo panel, di questi paper, che abbiamo potuto leggere prima con un'enorme e abbondante ricerca, molto puntuale e molto variegata. Cioè abbiamo come momenti che li connettono tutti un lessico comune, perché affrontiamo un certo numero di problematiche, che sono problematiche che poi, nella public history, che è stato ovviamente tirato in ballo come elefante nella stanza, partecipazione, collaborazione, definizioni di che cos'è una cittadinanza, una cittadinanza attiva attraverso anche la conoscenza della storia, l'educazione alla storia e poi anche le differenze tra memoria collettiva e storia e le preoccupazioni che si hanno su una memoria storica, che poi definisca anche le conoscenze delle comunità nei territori. Per ritornare su quello che appena ha detto Micicché, basta vedere la diapositive che ha mostrato all'inizio, la diapositive di Falcone Borsellini, che è una foto iconica, quando si parla di mafia si fa vedere quella foto, c'è un usaggio intero su quella foto che mostra quanto questa parla a prescindere del contesto di tutto quello che sono le storie dei due giudici. Allora, sono molto contento di poter dare, non andrò a approfondire, a questionare diversi paper, darò soltanto alcune considerazioni, complementi di informazione, suggerimenti di letture, di archivi, di modi di procedere con lo studio di queste problematiche, che sono assolutamente centrali, l'educazione alla cittadinanza attraverso la storia, anche perché penso che questi ultimi due o tre anni, la Cisco in quanto società, si è molto avvicinato anche a problematiche che Life, l'Associazione Italiana di Public History, che io ho l'onore di presiedere ancora, nelle domande verso la presenza di storia nella società. Quello che si trova nella lista di discussione della Cisco è a, si potrebbe analizzare, tre quarto del tempo legato a problematiche di Public History. Dunque sarebbe il momento di, secondo me, incrociare l'interesse delle società e cominciare a fare delle compartecipazioni, come dopo tanti anni sono state fatte negli Stati Uniti, tra l'Associazione di Public History e le associazioni maggiore di storia contemporanea, come l'American Historical Association. Questo, secondo me, è un invito importante da fare. Dunque ho avuto molto piacere a leggere i paper di un panel che è molto ben costruito su ricerche solide, perché ci sono ricerche solide dentro, che però sono tutte fatte su storiografia e fonte primarie che sono documenti pubblicati, non ci sono archivi. E questo è, secondo me, l'unica cosa che potrebbe aggiungere alle vostre ricerche e avvicinarvi agli archivi. Lo so che siamo in tempi di pandemia e gli archivi sono difficili da accedere, ma qui a Firenze, dove vi sto parlando, esistono e soprattutto per le due grandi interventi sulle posizioni delle istituzioni internazionali e europee nei confronti dell'insegnamento della storia, della memoria e dell'educazione alla cittadinanza, venire e passare un po' di tempo all'Historical Archive of the European Union, da noi all'Istituto dell'Università Europeo, sarebbe, secondo me, di grande uso, non per avere il risultato delle discussioni del Parlamento Europeo della Commissione, ma per sapere come siamo arrivati a quei risultati risultati e su quale base, discussione e contraddizione alcune cose sono state discusse. Un esempio, adesso ve lo farò, entrando proprio, tentando di entrare all'interno di chi queste politiche le definisce. Dunque, dicevo, questi casi sono molto importanti, molto ben complimentati, sono strutturati nei contesti europei e l'esempio svedese è molto interessante, perché poi è iconico e permette anche di mettere in evidenza quello che poi è successo in tutti i paesi, cioè il riconoscimento dell'unicità del Never Again attorno all'Occosta e la Shoah, della possibilità di dovere commemorare nei ricci civili questo, questa, l'Olocosta in funzione del revisionismo imperante, soprattutto alla fine degli anni novanti, cioè nei vostri paper soprattutto sono gli anni novanti che sono stati presi in considerazione, ma proprio negli anni novanti, grazie a internet, gli siti web revisioniste avevano un impatto nuovo che ha fatto sì che le autorità si sono preoccupate, non solo le autorità anche gli storici, non abbiamo fatto una ricerca dei siti web di storia contemporanea tra il 2001 e il 2004, proprio perché c'erano questi siti revisionisti e bisognava fare qualcosa per contrastarlo. Dunque, sistematicamente, si siamo interessati dei contenuti del web all'inizio del nuovo secolo. Dunque, per esempio, i paper di Margherita Angelini e di Claudia Villani e Lucia Boschetti si completano per tracciare una tornice europea e sovranazionale della storia dell'educazione per una definizione della cittadinanza europea nella descrizione storicizzata delle politiche educative, quelle sulle memorie collettive, l'insegnamento e l'insegnamento della storia. approfondiscono poi soprattutto le politiche della Commissione, prima di Maastricht, e anche soprattutto del Consiglio d'Europa che, come vedremo nell'esempio che adesso vi darò, è molto attivo nel dopoguerra. Allora, andiamo a questi complementi di informazione che vi vorrei dare, ma soltanto non per criticare quello che avete fatto. Io sono molto, ho avuto veramente un gran piacere di leggervi e di essere stimolata da quello che avete scritto e da quello che avete ricercato e dei documenti che avete messi in evidenza. Dunque, il contesto è la difficile gestione della memoria europea in chiave nazionale e sovranazionale, cioè con lo sforzo di questi disussioni di costituire una memoria condivisa in un momento non solo di crisi dell'Europa in quanto tale, del ventunesimo secolo, con anche l'allargamento del 2004, ma anche di crisi della storia come disciplina capace di educare, di dare le possibilità di trovare delle risposte per una cittadinanza attiva con la storia. Menzione, per esempio, l'appello di Giardina Segre Camilleri dell'aprile 2019 che era proprio questo. La storia sta scomparendo, la storia è un bene comune e questo bene comune è necessario per la cittadinanza, per le cittadinanze italiane e europee. Allora, entro con due esempi in quello che sono stati, se volete, le possibilità e le politiche dall'alto verso il basso del Parlamento europeo, in questo caso, per definire una memoria condivisa. Allora, c'è un ex dottorando dell'Istituto dell'Università Europea, conosciuto all'inizio degli anni 2000, tedesco, Marcus G. Prutsch, che è diventato funzionario europeo al Parlamento e consigliere, che ha pubblicato nel 2013 e nel 2017 un secondo paper per il Direttore General for Internal Policies sulla coesione, la struttura delle culture e dell'educazione, che è un policy paper. Gli chiedevano che cosa dobbiamo culturalmente fare a livelli di Parlamento europeo per mettere avanti un'Europa che pensa comunemente alla sua storia e tenta di trovare gli elementi pedagogici, i temi sui quali discutere per approfondire la cittadinanza con la storia. Allora, lui ha scritto questi paper e li abbiamo portato anche negli Stati Uniti, dove si sono confrontati come… Cioè, questo è il tipico caso di un public historian, uno storico che lavora a contatto di un'istituzione europea, il Parlamento produce con la sua conoscenza della storia e del passato un documento che dovrà essere applicato dai politici nei diversi paesi per ottenere un certo risultato. E questo era per una memoria transnazionale per creare un'identità collettiva pan-europea fatto di raccomandazioni tipo identitarie, identità collettive centrali in ogni corpo politico e dunque anche nell'Unione Europea, rivedere le politiche identitarie attuali per favorire l'accesa alle identità transnazionali, definire la memoria storica come centrale nelle costruzioni di identità nazionali ma anche nell'identità europea, favorire una cultura europea della memoria civica, quello che è al centro di questo vostro panel, riconoscere il ruolo essenziale dell'educazione in questo processo. Dunque questo è il Parlamento europeo che mette in evidenza nel secondo decennio e anche attraverso ovviamente questo ha dato luogo all'applicazione dei Citizens for Europe, progetti del quale avete parlato. Un altro esempio lungo di importante aggiunta all'educazione della storia nei diversi paesi del Consiglio d'Europa è dato da un'associazione, un'associazione importante, molto attiva, che non ho visto menzionato nei vostri paper, che si chiama Euroclio. Euroclio è un'associazione che ha la sua sede in Olanda e che organizza conferenze, produce materiali che permette all'insegnante dei vari paesi di avvicinarsi a una storia che non è solo nazionale ma che si confronti con il passato difficile dell'Europa e le problematiche europee. Per esempio cito solo uno strumento che è assolutamente straordinario al quale abbiamo collaborato anche qui dall'Italia che si chiama Istoriana. Istoriana è un sito nel quale voi avete documenti, avete lezioni, avete capacità se volete di utilizzare dei contenuti storici, avere degli esempi di learning activities, dei laboratori di storia che possono essere propedeutici all'insegnamento e anche utilizzare degli strumenti digitali innovativi. Dunque, questo per dirvi Parlamento Europeo, Consiglio d'Europa. L'educazione alla cittadinanza europea attraverso la storia però non è solo della scuola. Anzi, la scuola si ritrova in tanti altri momenti nel quale sia chi insegna storia sia che gli alunni vengono coinvolti e fa parte della costruzione di questa cittadinanza alla storia. Per esempio, sempre il Parlamento Europeo, sempre seguendo questi policy paper nei quali vi ho mostrato, è creata nel 2018 la House of European History con una mostra permanente che era destinata a tutte le scuole d'Europa. Cioè, ci sono i pellegrinaggi delle scuole con i docenti e questo è l'obiettivo di quel museo. Il museo non è lì per soltanto parlare della storia dell'Europa, è parlare in modo attivo della storia dell'Europa le classi di tutti i paesi che compongono l'Unione Europea. e dunque la mostra permanente è fatta ed è così importante che c'è stato ovviamente immediatamente un attacco politico perché tutta questa costruzione è una minore condivisa, una costruzione che è attaccata dal gruppo di Visegrad che ha creato una piattaforma di European Memory and Conscience nel 2018 e che ha sistematicamente attaccato i contenuti, sarò molto molto breve, i contenuti della House of European History dicendo che, per esempio, quello che importa all'est è il dopo 89, è il primo 89, cioè dal 45 all'89, l'occupazione sovietica, il comunismo e il totalitarismo che non viene rappresentato e in un'Europa che ha incorporato l'est, l'ovest e l'est hanno delle memorie, si condivise, ma molto divise nei confronti di questi temi che sono stati anche sottolineati nei vostri interventi sulla volontà di avere una giornata di un calendario civile europeo che tratti anche delle vittime dello stalinismo. Ecco, questo è uno dei problemi. Si diceva delle agenzie di public history, beh, questo il Parlamento europeo diciamo che è un'agenzia di public history attraverso i suoi mediatori che sono i public historians che lavorano per loro e poi sul territorio attraverso tutti quelli che contribuiscono a alzare il livello di conoscenza storica e attraverso i diversi miglia, può essere una rivisitazione storica, un museo, come ve l'ho detto. Prendo l'esempio del Museo M9 a Mestre, il Museo M9 è principalmente anche lì per far venire le scuole del Veneto e di tutta Italia nei suoi saloni per imparare la storia del Novecento, ma anche quello che voi avete chiamato e che è la storia del tempo presente che si chiama così soprattutto in Francia. Allora, un problema è un paio di riferimenti bibliografici. Un problema è imporre top down attraverso i politici o le istituzioni una memoria collettiva pone problemi. In Francia, per esempio, lo sapete, nel 2005 Pier Norà ed altri storici hanno messo su un comitato di vigilanza sugli usi pubblici della storia, rifiutando il fatto che si possa definire quello che sono gli elementi importanti della storia nazionale. Dunque ci sono queste problematiche che vanno ovviamente tenute sotto, devono essere ovviamente attentamente evaliati, dei rapporti tra la politica e i contenuti di storia che vengono insegnati. Allora, certo, due o tre riferimenti bibliografici. Uno che avete fatto, che secondo me è un saggio veramente fondamentale, scritto da Carlo Spagnolo in ricerche storiche nel 2017 sulle memorie di Wies d'Europa dopo il 45. Ma soprattutto, e quelli non le citate, e sono secondo me due handbook dai quali partire prima di. Sono due handbook di Palgrave. Il primo è il Palgrave Handbook of State Sponsored History After 1945, che è stato coordinato da Berber Bevernage e Nico Waters. Questo handbook è veramente fondamentale per i temi che trattate, dai temi locali italiani del terrorismo e della mafia a, sono poi locali perché questi temi e il modo di trattarle attraverso memorie e costruzione di memorie collettive, territoriali, sono identici non solo in Italia. C'è il terrorismo islamico in Francia, ha le stesse problematiche. E il secondo è il Palgrave Handbook of Conflict and History Education in post Cold War era, diretto da una delle persone che sicuramente ha più studiato queste problematiche nelle quali stiamo discutendo, Luigi Cagliani, Simone Lessig e Maria Repuzzi. Questi due temi sono davvero importanti. Poi, e finisco su questi riferimenti, quello pubblicato già nel 2019 di Marco De Mantovski, l'editore di Public History Weekly, che è un blog veramente fondamentale che da più di dieci anni si propone proprio nella storia dell'educazione, molti saggi che nel suo libro per Doug Reuter Public History and School. Finisco solo ritornando dove avevo cominciato, concludo con questo, parlando di rapporti che secondo me dobbiamo costruire. A maggio prossimo avremo, speriamo, in persona finalmente alla quarta conferenza di Public History a Caffoscari e alla M9 di Venezia, di Mestre. e abbiamo creato, prima dell'estate, un gruppo di lavoro all'interno della nostra associazione che si chiama Public History of Education e questo gruppo di lavoro, potete trovare informazioni sul nostro sito, considera un gruppo della storia come per diversi pubblici, soprattutto importante nell'iniziamento della storia e ha fatto un manifesto della Public History of Education, un manifesto appoggiato anche sulle collaborazioni importanti di istituzioni come INDIRE, come il Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa, sui laboratori di Public History of Education in Università di Firenze, sulla libera Università dell'autobiografia di Anghiari, sull'Istituto Nazionale, ovviamente, di documentazione e di innovazione che ho citato appena adesso INDIRE. Allora, vi c'è solo il coma introduttivo e poi andrete a vedere, perché non ho tempo di disquisire su questo, ma ci sono nove proposte. Hanno nove tesi che potete andare a vedere. Sono proposte per definire il campo e il ruolo dell'insegnamento della storia d'uso civico e questo manifesto afferma il mondo della ricerca educativa e storico-educativa è sempre stato un crocevia di più aree disciplinari e di molte tematiche interconnesse. Inoltre, soprattutto nel settore della didattica e della pedagogia sociale, sono state svolte molte esperienze che oggi possiamo definire come pratiche di Public History, seguendo il paradigma della ricerca azione partecipata. Una modalità di ricerca che per l'ambito pedagogico è stato il motivo privilegiato di contatto con il territorio, di costruzione di un rapporto di collaborazione e formazione soprattutto con le scuole, i musei, gli attori associativi e gli enti territoriali. Partono da quello per definire delle politiche, è un gruppo aperto, è coordinato da Gianfranco Bandini, che è professore all'Università di Firenze e hanno già pubblicato un libro in open access sulla Public History of Education per la Firenze University Press in 2019. E questo è, con questo concludo, diciamo se abbiamo la possibilità di scambiare qualche opinione, se non vi inviti tutto a proporre, di ridiscuterne a Venezia l'anno prossimo quando facciamo la nostra conferenza. Purtroppo no, Sergio, ma io la ringrazio anche perché sono tutti i riferimenti che ha dato, fanno parte proprio del bagaglio su cui lavoriamo da tempo. Ci sarà una conferenza a Bari ad ottobre in cui ci sarà sia Prucci che Euroclio, con cui dialoghiamo da tempo su questi temi. Purtroppo i cantieri di storia volevamo segnare alcune linee nuove e non potevamo neanche mettere tutta la bibliografia che lei giustamente ha ricordato, che conosciamo e che apprezziamo. C'era anche l'intervento di Luigi Caiani che aveva alzato la mano, che ci sta seguendo. Io non so se c'è qualche minuto da... No, no, purtroppo dobbiamo chiudere. Neanche due minuti. Almeno la parola. No, purtroppo dobbiamo per forza chiudere. Ci dispiace tanto. Cogliamo però l'invito a discuterne e a continuare a lavorare. Grazie a tutti e grazie anche per questo partecipatissimo panel. Per qualunque cosa siamo a disposizione. I paper saranno pubblicati e continueremo a lavorare anche con l'associazione di Public History. Siamo già a Venezia in un altro panel. Ci vediamo lì direttamente. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie molte. Buon lavoro. Arrivederci. 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 Grazie. Grazie a tutti.